È un intervento di manutenzione e restauro degli esterni. Manutenzione perché dovremo sostituire i manti di copertura dei tetti di Ardesia e verranno fatti esattamente uguali come quelli che esistono, però sono deteriorati e stanno provocando effettivamente dei danni all'interno. Faremo prima i tetti, dopodiché quando passeremo alla manutenzione straordinaria degli intonaci e delle superfici e delle pareti, cominceremo dal campanile e dagli stucchi del campanile che verranno comunque restaurati che sono attualmente i più deteriorati di tutti. Quanto dureranno gli interventi? Gli interventi dureranno almeno 8 mesi. Qual è l'importo complessivo di tutto l'intervento? L'importo complessivo di questa parte di intervento è intorno ai 390 mila euro. La comunità partecipa a questa grande opera? Sì, la gente ha bisogno della concretezza, quindi finché si dice c'è un progetto sono tutti silenziosi, poi quando si cominciano a vedere i ponti allora i ponteggi, la gente risponde. Però credo che la gente di Baccezza è affezionata a questo luogo e noi vogliamo anche provare, tramite la presentazione del progetto e poi anche con un depianto faremo, anche sensibilizzare tutta Chiaveri perché il santuario di Baccezza è il primo culto mariano della diocese di Chiaveri e il secondo della Liguria dopo Soviore. Quindi vogliamo sensibilizzare anche non solo la parocchia, il santuario è uno sguardo di Maria su Chiaveri anche da come è posto e quindi tutti possono partecipare anche con pellegrinaggio e ora vedremo un po' alcune forme.